Buonasera e bentornati a questo appuntamento del lunedì. Ne parliamo lunedì, ci occupiamo in questa puntata di caro energetico, dell'incremento dei costi dell'energia che sta gravando pesantemente sulle famiglie e sulle imprese. In questo caso ci occupiamo prevalentemente delle imprese, ma poi le cose sono particolarmente collegate, evidentemente perché poi le imprese sono comunque formate da imprenditori, da persone, da famiglie, hanno a che fare con consumatori e quindi comunque non c'è qualcuno che ne possa beneficiare purtroppo, anzi qualcuno c'è ma non sono certamente né le imprese né le famiglie. Per parlarne con noi ci sono il presidente di Ascomcommercio Grosseto Giulio Gennari e Paolo Pieraccini che è presidente di ACOT, l'Associazione Castiglienese degli Operatori Turistici. Intanto, Gennari, voi come associazione a livello non solo locale avete lanciato un'iniziativa che è quella delle bollette in vetrina, perché comunque, vedremo adesso anche un servizio che abbiamo realizzato, il problema si sta facendo sentire ora che stanno arrivando le bollette dell'ultimo bimestre, soprattutto su ristoranti, bar, negozi, tutto quello che ha a che fare con l'utilizzo di energia. Buonasera a lei e ai suoi spettatori. È chiaro che il problema si sta sentendo da un po', adesso è sotto gli occhi di tutti e sotto la lente di ingrandimento, anche perché comincia ad avere un impatto devastante sui conti delle aziende, ma quando dico devastante non uso un aggettivo eccessivo. La realtà è che questo è stato un anno con, susseguente agli ultimi due anni di pandemia, dove tutti abbiamo sofferto tantissimo, hanno sofferto tutte le aziende del terziario del commercio, ricordiamo ai negozi chiusi, ai bar chiusi, ai ristoranti chiusi, uscendone finalmente si rivedeva il sereno anche dal punto di vista dei conti, perché chiaramente torna il turismo, torna il flusso nei negozi, torna nei fatturati e purtroppo ci siamo trovati in una situazione di iperinflazione che è, diciamo, sia causa che effetto della devamenta. Siamo intorno al 7% ormai, questi sono i dati quelli, diciamo, ottimistici, ecco, in qualche maniera. Ma guardi, io parlo per me, a titolo personale e per i prodotti che conosco, ce ne sono tanti, soprattutto quelli vicini al mondo dei combustibili, che sono più che raddoppiati nel giro di, rispetto all'anno passato. Poi certo, il livello di stazione e di inflazione lo certifica l'Istat e avrà i suoi motivi per dire questi numeri. Il problema è che forse dobbiamo proiettarli anche un po' più avanti e non vorrei che quei numeri fossero destinati a salire. Il momento sta crescendo. Se la regia è pronta, chiederei di mandare il servizio che abbiamo realizzato nei giorni scorsi, proprio in seguito a questa iniziativa anche di Ascom. Siamo andati in giro per la città per incontrare alcuni dei commercianti che hanno aderito all'iniziativa. Nel ristorante Pizzeria I Tre Lampioni l'impietoso confronto è già ben esposto in vetrina. Poco più di 1000 euro nel 2021, quasi 5000 quest'anno. È veramente insostenibile. Secondo me è tutta una speculazione delle grandi marchi di energia, sia di benzina che di gas metano. Non si rendono conto che se dura così, perlomeno a fine anno, il 30% delle aziende chiudono, perché sono costi che non si possono sostenere. Ci spostiamo al ristorante d'Appoldo e anche qui la situazione non è decisamente migliore. È triplicato il costo delle bollette, è come avere un dipendente in più. Però, come ho detto prima, ormai tutti gli anni ce n'è una, quindi siamo abbastanza abituati a tenere botta a queste situazioni tra Covid, guerre, aumento delle bollette. Insomma, se ne sono viste di tutti i colori. Ma queste mazzate non sono un fulmine a ciel sereno, bensì il risultato di un trend che è andato in crescita costante nell'ultimo anno. Diciamo che già da metà dello scorso anno che stanno aumentando bolletta per bolletta, stanno sempre aumentando. Io pagavo nel 2020 800 euro, nel 2021 1.100, nel 2022 a giugno 2.700 euro e a luglio 4.700. L'anno scorso ci ho reso conto sui 600 euro poco meno e quest'anno più di 1.800. Un trend crescente a partire da fine anno, esatto, per arrivare ad ora. Spero che sia arrivato al culmine. Ecco, questi sono solo alcuni esempi, ma sono centinaia, perché ogni impresa può testimoniare aumenti almeno del triplo della bolletta. Poi dipende anche dai gestori, o mi sbaglio? Sicuramente sì, però... Diciamo poi l'entità dell'aumento da gestore a gestore varia. Varia però anche se volessimo rimanere su numeri più bassi. Ora, Piernello Cicaloni parlava sostanzialmente di un aumento esponenziale, ma ammettiamo che fosse soltanto raddoppiato, ma ce ne diamo conto, anche solo quello nel conto economico di un'azienda... Lì si parlava del bimestre, eh? Sì, sì. Quelle cifre erano riferite al bimestre, lo voglio precisare. Certo, sono bimestrati. Non è un costo annuale, ecco. Io credo che la situazione sia insostenibile, ma fortemente insostenibile. E credo, ma lo crede tutta la nostra categoria, che sia necessario un intervento, che noi stiamo con forza domandando al governo, perché poi le chiavi per risolvere questo problema non ce l'abbiamo noi. Noi possiamo fare ben poco, subire gli aumenti e non riversarli sul nostro lavoro, perché sarebbero non capiti dalla nostra clientela. Allora, a mio avviso, direttore, bisogna che gli interventi arrivino subito, per un motivo. Perché, come diceva giustamente Piernello Cicaloni, che è un ristoratore storico di Grosseto e un socio storico dell'ASCOMF Commercio, è chiaro che tante aziende non arriveranno molto in là. Alla fine, se non c'è soldi, chiudi. Questo è abbastanza chiaro. Una curiosità, è proprio notizia di oggi, se non erro, che pare, insomma, che i gestori, io metto sempre, come dire, il punto su questo fatto, su questo aspetto, perché poi sì, il governo deve fare le sue cose, è giusto che le faccia, però i gestori che non hanno versato, a quanto pare, 9 miliardi, che dovrebbero servire proprio ad abbattere le bollette, con i gestori non se la prende nessuno. Guardi, io me la prendo con chi vuole, ma il punto è... No, no, è una domanda... Come avete accolto questa notizia voi? Perché è un po' particolare, no? Hanno detto, eh, ma il contratto era scritto male. Sì, ho capito, la legge era scritta male. Insomma... Guardi, queste cose, l'ho letta anch'io questa notizia, onestamente. Francamente, bisognerebbe poi andare alla fonte. Io mi auguro che sia una fake news, in qualche maniera sì. Anch'io me lo sto augurando ancora, si dice, indubbiamente. Perché farebbe, oltre che piangere, ridere. È chiaro che si parla di extra profitti, 9 miliardi, insomma, 9 miliardi di euro, sappiamo quanti soldi sono. Eppure, eppure, anche se questi 9 miliardi fossero destinati immediatamente a questo problema, si risolverebbe solo una piccola parte. Solo in parte. Quindi servono misure, diciamo, più drastiche e precise sul contenimento dei costi, sostanzialmente. Sulla certezza, perché vede, al di là dell'intervento che ci vuole per salvare le aziende, per salvare il tessuto, perché poi è vero che ci sono nel nostro, in Italia, aziende enormemente energivere, più o meno sono nel campo della manifattura e altri, ma è vero che poi le aziende di prossimità sono le nostre, che non hanno poi questo grande volano per assorbire o, diciamo, dilazionare nel tempo questi enormi aumenti. Quindi è chiaro che ci vuole senz'altro un intervento, e deve essere, a mio avviso, molto veloce, fino a quando le aziende sono in vita. Dopo, dovrai pagare soltanto la cassa integrazione e dovrai rinunciare agli introiti che le aziende ti fornivano. Quindi è più saggio intervenire subito, questo è banale. Ma poi bisogna capire anche nel medio termine come comportarsi, perché se siamo in balia degli eventi... Questo è l'argomento su cui entreremo. Volevo sentire invece da Pieraccini, con lei volevo partire un po' da come sta andando questa stagione. Lei ha il polso di Castiglione, che comunque è un luogo che fa un... Dà la sensazione di quello che davvero sta succedendo. E come in questa stagione quello che sta succedendo a livello di costi influisce? Allora, è stata una stagione piuttosto buona. Anche perché complice un tempo particolarmente clemente, maggio straordinariamente caldo, giornate molto calde, e sul mare questo ci ha dato un grande vantaggio. Di contro c'è un problema di costi che si sta diventando insostenibile. A fronte di un incasso che sicuramente sarà maggiore rispetto anche al 2021, di un 20-25%, complice anche l'allungamento della stagione dell'apertura, ci sarà una marginalità inferiore e il margine di guadagno sarà del 50% inferiore. E questo, dopo due o tre anni di schiaffi a più riprese, diventa veramente pesante da sapere. Rispetto agli anni... Perché in tutti e due gli anni della pandemia, l'estate è stato un momento comunque per il settore turistico in qualche maniera di tenuta, se non di ripresa, più di tenuta direi, insomma, che di ripresa. Questa diventa davvero quasi... una situazione davvero peggiore rispetto al passato. Io credo che sotto alcuni aspetti sia anche peggio del periodo del Covid, sicuramente. C'è stato qualche aiuto e chi ha usufruito degli aiuti, soprattutto che lavorava sul mare, luglio e agosto, diciamo, i mesi d'oro, l'abbiamo comunque fatti sempre. Abbiamo accorciato la stagione 2020 e 2021, quindi paradossalmente il problema è stato abbastanza affrontato in maniera decente. Però il 2022, ripeto, aiuti non ce ne sono perché siamo usciti dal Covid e i costi sono lievitati a dismisura, non solo della corrente a gioco, anche delle materie prime. Questo aspetto qui è un altro aspetto che mi interessava approfondire, perché mi risulta, insomma, che anche i fornitori abbiano a che fare con un problema serio, che è quello dell'aumento settimana per settimana, dei prodotti, parlo della ristorazione in particolare, che arrivano nelle cucine e che sono lievitati, ma si va da 15-20% al 40-50% di settimana in settimana, non una volta all'inizio stagione, insomma, che uno dice, vabbè, lo ammortizzo. E crea incertezza, credo, tra l'altro. Crea certezza e poi fai i prezzi. Come fai a fare un menù o a fare i prezzi anche di un albergo? Noi dobbiamo, diciamo, dichiarare i prezzi 7-8 mesi prima la stagione. Con che criterio uno fa i prezzi con un'inflazione che all'epoca era del 2-3% certificata e oggi non è del 7 o del 10. E quindi le vongole costavano 12 euro, le vongole verasci. Oggi costano 17-18. Porto degli esempi spiccioli, banali. Quanto dovrebbe costare il solito spaghetto alle vongole? Non si sa, per averci la solita marginalità. È una scheggia impazzita in cui, se non c'è urgentemente una regola da parte dello Stato, diventa veramente... Domanda un po' cattiva, ma insomma, anzi, la premessa per una domanda un po' cattiva. Questi aumenti non si sono... e non si stanno riverberando sui prezzi? No. In parte, ma non completamente. Non completamente. Assolutamente. Ma possiamo però dire che negli anni precedenti forse qualche aumento c'era stato nei prezzi? E forse ora è un po' difficile aumentare ulteriormente? Allora, io parlo... Allora, nell'Alberto... Io penso di chi frequenta ristoranti... Io rappresento tre categorie. Tre categorie diverse e hanno comportamenti diversi. Allora, la balneazione, che è quella che ha più marginalità di fatto, Certo, e anche meno consumi energetici. Anche meno consumi energetici. Ha aumentato in maniera piuttosto importante il 2021, complice il 2020-2021, e quindi i prezzi di fatto non sono stati aumentati. La ristorazione e la struttura alberghiera, con questo tipo di aumenti, veramente siamo in difficoltà. E non è che, ripeto, gli aumenti sono stati limitati a 1 euro, 50 centesimi il piatto, e niente, rispetto al reale aumento, sono stati veramente insignificanti. Come risponde invece la clientela? La clientela è consapevole di questa problematica. Purtroppo non ha ancora una coscienza. L'aria condizionata continua a tenerla accesa 24 ore su 24 in una camera. Invece ci vorrebbe un po' di coscienza e di spirito critico su questa problematica. Però è consapevole ed è conscia che probabilmente l'anno prossimo dovrà spendere di più. Io ripeto, lo tengo a sottolineare, il settore alberghiero ha fatto i prezzi a novembre 2021. E quindi, diciamo, si è preso in faccia completamente tutto questo tipo di aumenti senza poter fare niente. Si registra, ad esempio, nel settore ristorazione una riduzione dei consumi? Cioè, nel senso, la gente va di meno al ristorante oppure al momento ancora facciamo le cicale, insomma? Facciamo, io facciamo, perché si viene da due anni veramente particolarissimi. Il 2021 c'era un entusiasmo particolare. Io credo che il lato di riferimento su cui poter basarci è il 2019. Cioè l'ultimo anno libero, insomma. E io credo che più o meno siamo su quei livelli. È chiaro che tre turni, come tanti ristoranti facevano nel 2021, quest'anno probabilmente non l'hanno fatti, ma i due pieni, come facevano tranquillamente nel 2019, questo sì. Quindi almeno da questo punto di vista... Ma il lavoro più o meno c'è stato, le presenze ci sono state, insomma, non ci si può lamentare della stagione del senso di presenze. Quindi il problema è realmente ed esclusivamente quello di un aumento dei costi spropositato, che non può essere assorbito nei prezzi. E c'è in proiezione futura anche il problema che poi dovremo aumentare, gioco forza, i prezzi. E quindi forse è l'anno prossimo che vedremo le ripercussioni in negativo di questa cosa. Eh sì, perché poi possono andare con la famiglia a mangiare al ristorante o a dormire in un albergo, diventa pesante. A conto la camera che costa 150, a conto la camera che costa 180. Moltipli per x persone, per x giorni, sono soldini. E quindi può diventare un problema ulteriore, perché riduzione dei consumi, riduzione degli introiti... Il settore alberghiero in questo è indietro di un anno, perché, ripeto, dovendo gioco forza certificare prezzi a inizio stagione, lo può modellarli a seconda della bisogna, cosa che il ristorante in teoria può fare, perché può cambiare anche il listino strada facendo. Non è il massimo della correttezza, ma in un momento di estrema necessità... Da un menu all'altro si può cambiare. Lo può e lo deve fare, insomma. Anche perché se no non si sta dietro. Se no non si sta dietro. Gennari, il problema quindi, oltre a quello che ricordava prima Cicaloni, sul rischio che con questi costi, senza interventi, ci sia una chiusura del 30% delle imprese, rischia di essere ancora più ampio, se verso l'anno prossimo si va con un aumento ulteriore di prezzi, perché sarà necessario se non ci sono misure di questo genere, e quindi una riduzione comunque dei consumi, perché poi alla fine le famiglie, gli stipendi non aumentano di conseguenza, e quindi di fatto... Guardi, questa situazione, questo trend è già in atto, purtroppo. Guardi che io parlo nei miei di negozi, ma esistono anche statistiche che vengono da enti certificatori della GDO. Si parla di perdita dei numeri di scontrino, intorno al 20-25%. In alcuni settori ci sono perte del 25% del numero degli scontrini. Questo non vuol dire che i fatturati carano così, ma semplicemente l'aumento dei prodotti in parte le compensa, ma significa che c'è una parte importante della popolazione italiana che non può più permettersi di andare a fare acquisti. Questa è una cosa di cui bisogna tener conto. Ha dovuto comprimere la sua propensione al consumo, quindi la qualità della vita. Adesso io faccio il politico, per l'amor di Dio, però è evidente che questa cosa dal punto di vista sociale può avere delle ripercussioni anche importanti, più il tempo passa e più le avrà. Ora, siamo sempre lì, e qui è la politica di Roma e forse di Bruxelles che devono rispondere a una problematica che rischia di mettere in croce il Paese, probabilmente l'Europa, se non il mondo intero. E bisogna farlo, ripeto, non mi stancherò mai di dirlo, in tempi brevi, perché è esattamente come un'infezione, direttore. Ti dicono, beh, devi curarti subito, così radichiamo prima, se no può farti dei danni. E qui è la stessa cosa. Quando l'azienda è chiusa non si resuscita. Ok? Quindi è evidente che l'intervento deve essere veloce. Poi, perché si porta dietro tutte le problematiche, una problematica di carattere aziendale, ma che porta una problematica di carattere di offerta di lavoro, nel mondo del lavoro, può creare disoccupazione. E comunque le aziende che si trovano compresse con un grande aggravio, quindi una riduzione dei margini, addirittura arrivando in negativo, perdite a fine anno, fanno fatica a pensare a un investimento. E poi, mi lasci dire un'altra cosa banale, ma forse è più una cosa per chi è un po' tecnico, o è dentro la materia, quindi chi guida un'azienda. Guardi che, ripercorriamo un attimino gli ultimi due o tre anni. Arriva la pandemia, crea i danni che ho già ricordato prima, ce li ricordiamo tutti, no? Le città deserte, i negozi chiusi, non potevi comprare se non alimentari, oppure in farmacia o poco altro. Ok? Lo Stato, in quel momento, il governo ha dato un salvagente alle imprese, ha detto, guarda, io metto la mia mano per garantire prestiti bancari, i famosi prestiti garantiti dal MCC, dal Medio Credito Centrale. Tanti delle nostre imprese, tanti di noi, ne hanno approfittato, perché da una parte era salvifico, da quell'altra ti consentiva di investire per il futuro. Passa il tempo, e chiaramente da situazioni di preammortamento arriva il momento in cui devi ripagare anche i capitali. E arriva proprio ora, poi ci mettiamo un'altra cosa, se vogliamo, e è il famoso codice di crisi d'impresa, che è una bellissima cosa che era stata sospesa durante la pandemia, adesso dal 15 di luglio, rieppienamento operativo, e anche quello va a interessare sostanzialmente il meccanismo dei flussi di cassa, con tutta una serie di annesse e connessi, che è inutile, puoi andare a ripetere qui. Ma tutte queste cose le metti insieme e ti creano la tempesta perfetta. Ci siamo fatti con le nostre mani, veramente è una situazione difficile. Allora, tutto converge nella solita direzione. è una prospettiva terribile. Io non voglio capirne niente, per l'amor di Dio, ci sono persone che a Roma e in tante altre parti d'Italia capiscono la situazione molto meglio di me. Però questo è un grido d'allarme. Io sono spaventato, perché il lavoro mi è enormemente, si è reso enormemente più complesso. Alla fine, noi dobbiamo far tornare dei conti, abbiamo bisogno di investire, dobbiamo pagare i nostri dipendenti, dobbiamo pagare lo Stato, dobbiamo pagare, rimborsare le banche, dobbiamo pensare agli investimenti, dobbiamo pensare allo sviluppo. E però, se si crea una situazione come si è creata, di questo genere, diventa molto difficile. Ma lo ripeto ancora una volta, non voglio essere noioso, ma se, tublo, quali sono gli enti che possono creare ricchezza? Le imprese. Se tu le imprese le ingessi, o le danneggi, o le uccidi, non ti creeranno ricchezza. Ci fermiamo qualche istante, per la pubblicità, e poi ripartiamo da qui, per capire che cosa servirebbe, in che tempi, breve termine, medio termine, per poter dire, in qualche maniera, si torna a produrre ricchezza. Lì nella regia, restate con noi.